Ciao a tutti bambini! Io sono Acaggiolino, il simpatico cane Sicanium. Oggi inizio il mio viaggio per la bellissima Trinacria. Sì sì, proprio in Sicilia per scoprire questa fantastica terra. Inizio il mio viaggio da Trapani ed eccomi davanti alla Torre di Lignì. Sapete cosa la rende unica bambini? No! Questa è la punta occidentale più estrema della Sicilia, che divide il mar Tirreno dal mar Mediterraneo. Biu, quanta magia! In questo punto si uniscono due mari italiani. Spostiamoci verso sud. Andiamo insieme! Orsù proseguiamo verso sud, dove il sole mostra il suo massimo splendore. Accarezziamo le sponde della Sicilia, un luogo magico in cui profumi e colori si uniscono come in un quadro, facendo trapelare forti emozioni e sensazioni. Proprio qui, tra battaglie epiche degli albori della nostra civiltà e cibo fragrante che delizia il cuore e la mente, iniziamo un viaggio fatto di leggende, luoghi, sentimenti e volti. Qui, a Ponente, dove il sole riposa, qui dove il rosso del fuoco si fonde con il blu cristallino dell'acqua. Eccoci qui, bambini! Siamo in una tipica salina del Trapanese. Sapete cos'è una salina? Ci siete mai stati? No! È un posto meraviglioso, in cui l'acqua del mare viene raccolta e fatta evaporare, lasciando uno strato di sale sul fondo. È proprio lo stesso sale che la mamma utilizza in cucina. Biu, quanto è unica questa Sicilia! Ma, bambini, vedo degli uccelli bellissimi. Cosa saranno mai? Andiamo insieme a conoscerli! Ehi, ciao! Io sono Caggiolino, e tu chi sei? Ehi, ciao Caggiolino, io sono Fior di Gini, un felicottero rosa. Biu, quanto sei bello! Ma perché sei rosa? Sono rosa perché maggio dei piccoli bolluschi che trovo qui nelle saline, ricchi di betacarotene, che mi colorano le penne tutte di rosa. Oh, che bello! Ma abiti davvero qui? Eh, no Caggiolino, no, no, io sono solo qui di passaggio. Questo posto mi serve per rifucillarmi e riposare. Quando sono stacco, mi metto sulla zappa, nascondo la testa tra le penne tutte ruffate, e mi faccio una bella penichella. Beh, allora ti lascio riposare! È stato proprio bello conoscerti! Ciao a tutti, bambini, e alla prossima avventura! Ciao a tutti, bambini, e alla prossima! Grazie a tutti